Allora, Benjamin, ora ti faccio una delle domande più rivelatrici che facciamo a ogni stagista. Quindi riflettici bene, ok? Dove ti vedi tu tra dieci anni? Joe ha 80 anni. Un consiglio prima di entrare? Se non batti gli occhi va in paranoia. Salve, Jules. Sono bene, il nuovo stagista. Meno male che anche tu lo trovi ridicolo. Come minimo. Ti mando una mail quando avrò qualcosa per te. Aspetto sue notizie, signore. Mi dispiace. Scusi tanto. Così sei il nuovo autista di Jules. In realtà sono il suo stagista. Che cosa assurda. Il mio stagista si dà da fare. Mister Simpatia? Lo adorano tutti. Vestiti per fare colpo. Infila dentro la camicia. Perché nessuno infila più niente dentro? Date un'occhiata. Fiona, massaggiatrice aziendale. Ben. Che ne dici, Ben? Beh, dovrei... Oh, mamma. Non sei vecchio come pensavamo tutti. Gli investitori ritengono che un addi navigato ti toglierà le castagne dal fuoco. Cioè mi insegnerà il mestiere. Mai avuto niente di simile in vita mia. Questa bellissima, grande, entusiasmante cosa che tu hai creato. Ricordati chi l'ha fatta. Che tempismo. È in momenti come questo che hai bisogno di qualcuno su cui sai di poter contare. Perché tu sei il mio... Stagista. Beh, io stavo per dire... Stagista barra migliore amico. Oh, I got a little bit younger. E com'è che in una generazione gli uomini sono passati da tipi come Jack Nicholson e Harrison Ford? Oh, mamma. A little bit younger. È in momenti come. No.